dal 1956 fa col gonzola ammazza quanto è buona la pizza dei carlitti no, per la carne dei fumi no? no grazie Ciao sulla roba fresca Buon appetito 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 Questa praticamente c'è dentro la scarola, la scarola, l'olive, la cipurla, la cuvetta. Ora te la passo di là. L'ho fatto, stanno da sopra qua, per lì. Mi sto facendo una stesa. Ok, poi mi lascio un attimo di spazio, per non fare un certo e mettere. E' un certo e io scappo. Vincenzo, ci vediamo domani. È buona? Grazie. È troppo bello. Bella. Grazie a te, buona serata. Grazie a te. Poi c'è, non è bello. Senti, dammi un altro sizzino. Sei un mercante, no, eh. Perché? Un prosciottino sempre? Non ci sono. Manciate qua? Sì, no, sono morto da madre. io sennò prendo un frigo per te, ok e poi prendo da bere, questa qua, quella che esce fuori da male qua bravo, da male qua letture, va bene, ma ce l'hai trovato qua, mazza quanta, e poi i bicchieri sono gratis, troppo, questa è di birbantin, il sugo di salsicce, allora fai una cosa, perché questo è in bianco e questo invece è al sugo, allora fai, ma proprio così, io non faccio battute no 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 no, una sola, vieni vieni, vieni, ti fanno una ripresa di un gattino, è un supplò, manca qua eh, vieni qua, 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 questa è quella di salsicce toscana, però metterò pure sulla pagina se ancora è attiva, quella di facebook, si tranquillo, senza che diventi matto, insomma è buona qua la pizza, è buona, allora c'è sta uno su TikTok, il toscano, no, che dice vada come la fuma, allora io ti dico un'altra cosa, mazza quanto è buona la pizza dei carletti, hai capito i clienti che ti dicono, non so se te la mette stessa cosa online, arrivo fino là, mi sistemi, mi sistemi... Mettio, il forno lo partite un secondo? Ok grazie... Mettio, il forno lo partite un secondo? Ok grazie... Quindi tu c'è stata venticinque anni qua, scherzando lì, insomma, che giorno è passato? Scusate, io ti dico io riconosco questo... Scusate, io ti dico io riconosco questo... che facciamo oggi? le ricrese? beh come dai sta al sugo delle salsicce, hai sentito? come è sabato? a Roma però a Roma è sempre sabato a Roma è sempre questa è sempre giocato au viderci